Alla domanda l'autorità del Consigliere Sante ha parlato per seguire, e lei non ha detto A, adesso io... Ha scorato, se mi permette, ne abbiamo parlato nella conferenza dei capi gruppi, se dobbiamo avere la tolleranza e la certezza posso avere. Anche il Consigliere Sante ha scorato, l'ho appena detto. Allora, fa provato per il Presidente del Mugambino, adesso lo facciamo.